Ben ritrovati con il TG dei ragazzi. Partiamo subito con la prima notizia. Quest'anno al Teatro Kreberg ci saranno spettacoli di danze e concerti, ma soprattutto tanti musical. I titoli in programma sono Dirty Dancing, We Wow You Rock, You, Priscilla la regina nel deserto, Peter Pan Forever e il campione d'incasso dello scorso anno Mamma Mia. Guardiamo l'intervista al direttore artistico del Teatro Paolo Scotti. Con novità come Priscilla che ritorna in scena dopo alcuni anni con una grande compagnia, c'è il ritorno di Mamma Mia che è stato il successo forse di pubblico più importante della stagione scorsa, insomma ce n'è su tutti i fronti. Il famoso studio Bozzetto, che fa cartoni animati, ha realizzato 5 video educativi per spiegare come comportarsi all'entrata e all'uscita di scuola. Questi video sono stati voluti dal comune di Bergamo e dall'azienda di trasporto pubblico ATB. Il messaggio è quello di lasciare l'auto a casa e andare a scuola, a piedi o in autobus. Ecco l'anteprima del video. Dal me passano tante piste ciclabili. Presto verrà inaugurata quella che porta a Zogna, ma ce n'è già una che porta verso il Parco dei Colli e un'altra sul fiume Brembo. Dal me in bicicletta si arriva a Cranez, ora anche fino a Ponte San Pietro. Per i comuni della Valle Brembana la pista ciclabile è un modo per valorizzare il vecchio tracciato della ferrovia. Guardiamo l'intervista al sindaco di Armè. Al me è un po' un punto di snodo per tanti ciclabili e attraverso questa pista che è stata appena inaugurata si può non solo puntare sulla Val Brembana, ma si può connettere con nuovi percorsi che sono sostanzialmente presenti lungo il fiume Brembo. La polizia utilizza un nuovo software chiamato Sari che permette di riconoscere i criminali. È utile perché mette a confronto le foto segnaletiche a disposizione della polizia con i volti ripresi dalle immagini di videosorveglianza. Uno strumento in più per individuare ladri e malviventi. Guardiamo il servizio dove i poliziotti spiegano come funziona. Il sistema mette in comunicazione questo sistema con l'altro sistema che è l'AFIS, che è la banca dati, dove ci sono tutti i foto segnalati attraverso questi calcoli, questi algoritmi. Arriva e fa questa comparazione e arriva il cartellino, quello più simile a quello che io ho inserito del sospettato. Al palazzetto del ghiaccio di Bergamo si sono esibiti alcuni dei migliori pattinatori del mondo in occasione del Lombardia Tropi 2018. Tra di loro Shoma Uno, il giapponese che ha vinto un argento alle Olimpiadi. Il palazzetto era pieno e tutti lo hanno applaudito. Guardiamo nel video le esibizioni del famoso pattinatore nipponico. L'equitazione è uno sport di cui si parla poco, ma che ha tanti appassionati anche nella nostra provincia. A Crusone si è tenuto il campionato italiano di endurance, dove i cavalli percorrono lunghe distanze di 30, 60, 90 km. Il giovane campione bergamasco, Luca Zappertini, ci spiega cos'è l'endurance e quali risultati sportivi ha raggiunto. Guardiamo il servizio. L'endurance è in poche parole una maratona a cavallo. Ho avuto dei risultati Under 21, una medaglia d'argento agli europei di squadra, un sesto individuale. Ho partecipato, sono stato quattro volte in nazionale e nel futuro si spera di migliorare. I bambini del corso elastico di Andara, San Rocco e San Martino hanno cantato per il Presidente della Repubblica in diretta sulla televisione di Stato. I 45 giovani studenti bergamaschi sono stati protagonisti della trasmissione Tutti a scuola, condotta da Flavio Insinna e Claudia Gerini, accompagnati dall'orchestra RAI. Guardiamo un pezzetto della loro esibizione. Filippo Cosumano ha solo dieci anni, ma già un campione italiano di bici motocross. Filippo si allena tre volte alla settimana con la sua squadra, il Caravaggio a Frode. Il suo sogno è di partecipare alle Olimpiadi. Filippo ha cominciato a praticare questo sport con la bicicletta quando ha visto una pista per motocross, come ci racconta nell'intervista seguente. Un giorno stavo camminando con mio papà e abbiamo visto questo campo come questo e ho chiesto a mio papà cos'era. Poi ci siamo informati e da lì ho iniziato tutto il mio percorso. Vorrei continuare e arrivare alle Olimpiadi. Entro fine anno il Palazzo Nuovo di Briniano sarà venduto a un prezzo di circa 35 milioni di euro. Il palazzo è chiamato nuovo per distinguerlo dal Palazzo Vecchio, che è sede del municipio. Il compratore è un ricco stranagnero che si è innamorato dell'antico palazzo e vuole trasformarlo in un hotel di lusso. Guardiamo ora le belle immagini del bel palazzo costruito intorno al 1600. A Treviglio è stata organizzata una corsa molto speciale. I protagonisti sono stati un gruppo di disabili che hanno gareggiato con le carrozzelle elettriche. I 18 corridori hanno disabilità neuromuscolari e hanno corso in gruppi diversi a seconda delle caratteristiche delle carrozzelle. Un pubblico numeroso li ha applauditi. Guardiamo le immagini della gara. E' stata inaugurata una nuova pista ciclabile che collega la fiera di Via Lunga al confine con Seriate, a Via L'Europa, passando da Boccaleone. La pista è lunga 2,5 chilometri ed è costata 500.000 euro. Il tragitto che adesso si può fare a piedi o in bicicletta è più diretto di quello che si fa in auto. Guardiamo le immagini. Dalla classe Prima E di Grassobio è tutto. Vi ringraziamo e restituiamo la linea allo studio. Ciao a tutti, sono Gabriele e oggi ho fatto il cerchista. Ciao a tutti, sono Simone e oggi ho fatto il regista. Ciao a tutti, sono Mattia e oggi ho fatto il cameraman. Ciao dalla Prima E di Grassobio. Ciao!